Sui trasporti, qualche rassicurazione su Malpensa è arrivata nei giorni scorsi dal Ministro Lupi. Lei comunque ha detto che teniamo alta la guardia su questo tema, sul tema Malpensa. Su Malpensa non ci sono novità, rimangono le preoccupazioni. Pensare di ridurre Malpensa nel rapporto cargo è una sciocchezza. Pensare di penalizzare Malpensa in vista di Expo è una sciocchezza al cubo. Sui trasporti e sulla mobilità, oggi la Giunta regionale ha preso una decisione importante. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro per procedere all'integrazione dei sistemi tarifari, per rendere la vita più facile a chi viaggia, migliorare la mobilità. 30 milioni di euro, tante risorse per la bigliettazione elettronica, un investimento importante che migliorerà la qualità dei trasporti in Regione Lombardia.